Buongiorno, sono Riccardo Giorgi, il nuovo vettuto da Pera a Montfresco Valle. Oggi siamo qui insieme per descrivere le nostre tre etichette prodotte a parte di Pera. Il Chianti Classico, vino composto dal 90% sangiovese, 10% di varietà complementari, tra i quali il Merlot, il Cabri Sauvignon, il Canaleo, ricevono affinamento di 12 mesi in balligli, secondo passaggio, e acciato. La nostra riserva, vino molto più complesso e più concentrato, è un vino che passa 24 mesi in volte grande ed è composto per il 95% di sangiovese e un 5% di Merlot. Per terminare, in bellezza, abbiamo il nostro Rialzi, la nostra gran selezione, che è composta al 100% di sangiovese, dal mondo vitigno, mondo vignito, passa un periodo di 24 mesi in Pera di Nuova, per un mantenimento in totale di 30 mesi. Le caratteristiche dei nostri vini sono l'espressione del terrovaro unico che si trova per anno, che è composto da vari fattori climatici e pedoclimatici che rendono questo terrovaro unico. Si parla di esposizione, altitudine, temperature, piogge, caratteristiche pedologiche e ovviamente tutto ciò che è anche il sour fair frescovaldi e la cura, l'attenzione, la precisione che si apporta nel lavoro a partire dall'avvenimento, sino all'ultima fase di affinamento dei nostri vini.